Trasformazioni Ci sono tempi di passaggio in cui non riconosciamo più chi siamo. La forma nota, quella a cui potevamo ritornare ogni mattino, non è più il porto sicuro, l'abito su misura che ci segue nelle ore della giornata. Ma la forma nuova ancora non è completa e non può ospitarci. Allora dobbiamo restare indefiniti, senza confini, a volte perderci nella tentazione dei confronti con tutte le forme belle e pronte che ci paiono muoversi felici intorno a noi ed essere sempre a ritmo con i giorni. Eppure non c'è un altro modo per crescere. Per divenire il futuro che ha messo già i semi in noi. Allora bisogna crescere la pazienza. Imparare la fiducia degli alberi che non temono mai lasciando andare le foglie che non ritornino a nuova primavera.